ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con il cellulare per fare un annuncio rapido rapido e mi sono dimenticato durante la live di darvi appuntamento domani sera perché ci ritroviamo con gli amici di simdrivers su race room aprirò un server apposito in locale qui sul mio pc in modo tale che io possa fare i test da regista per poter vedere se le dirette streaming vanno bene o meno e far conoscere un po a tutti insomma questo titolo che magari ancora non hanno visto perché voi siete abituati per chi ci segue a vederci girare su assetto corsa e anche insomma non solo per ritrovarci tra gli amici e divertirci un pochettino ma proprio per testarlo bene bene in una competizione non ufficiale assolutamente siamo veramente tra amici quindi io vi invito per chi fosse interessato e avesse il titolo e avesse le dpm del 2016 con il circuito di zandvoord ad unirvi insieme a noi le credenziali di accesso sono semplicissime sono simdrivers il nome del server e xxx sarebbe la password usiamo questo da sempre quindi il triple x per accedere ovviamente il numero è limitato a 32 posti cercherò di dare comunque se non ci fosse posto priorità ai ragazzi che di sim drivers per ovvi motivi ma se eventualmente siamo veramente tantissimi aprirò un secondo server che non che ci sta tutto quindi ragazzi appuntamento domani sera a partire dalle 21 io penso che faremo un test con pit stop obbligatorio gara 1 e 2 con griglia invertita tutte le regole di base penso metteremo nel campionato in modo tale che anche chi parteciperà chi vorrà iscriversi già prendere un po confidenza con il titolo sarà una serata nel buon umore di buon umore e niente saremo anche collegati all'inizio nella chat di discord quindi se volete partecipare per forza dovete venire in chat ragazzi basta che andate in multiplayer sul race un domani sera a partire alle 21 cercate sin driver smettete la password triple x e venite a correre con noi ovviamente ragazzi siamo qua per divertirci quindi massimo rispetto dell'altro non andate non facciamo auto scontri sarebbe qua che non piace a nessuno cerchiamo di fare una gara pulita così ci dà modo di fare per me una live streaming per chi volesse seguirci nel buon umore e per chi corre per appunto prendere confidenza con il titolo quindi ragazzi vi ripeto appuntamento domani sera di black friday insieme a noi di sim drivers per farci qualche gara sul race quindi la diretta durerà praticamente le due gare gara 1 gara 2 poi tutto perché voglio girare anch'io ragazzi per stare un po con gli amici ok quindi ci vediamo prestissimo anzi a domani sera vi sei tutto ciao